Vita Anton Donato, Violino Anton Tonino, Tinta Unita Tutto Nero Trullalero Trullalà Ma tu sai leggere? Vita Anton Donato, Violino Antonino Tonino, Tinta Unita Tutto... Antonio c'è scritto, sai leggere tu? Antonio! La faremo? Ora, spiegatemi! È palese che quella sia una texture, guardate in cielo! Wow, un quadrato magico! Che figo! Ah beh, siamo in paradiso, quello è lo c'è di Dio. Se ora che scherzo su parla con Dio, esce la voce di Dio, io amo, amerò quest'uomo. Che ha fatto la mappa, quindi... No, vaffanculo, mappa di merda. Puttane, sono rimasto senza mitra. Dipendi il paradiso! No! Tizio! Minchia, ma stavo salendo! Scusa, signora zombie, io ti do... Ok, resistiamo almeno un minuto. Non chiedo tanto. Spariamo. Vedi. Un hunter! Ucciso. Una jockey! Non è più utilizzabile. Eh, tu spari... Ah! E appunto... Bisogna fermarsi un po' prima. Ok, sta arrivando il tank, sta arrivando il tank. Ok, perché non ci sono munizioni? Io mi sto prendendo paura. Il tank! No, stanno munizioni, a lei, stanno munizioni. Dove stanno? Sì, stanno, stanno. Un tank. Dove... Dove stavano... In mezzo, dove stavano le farm e le messe in fila, stanno. Ok, mo' vado. Tutti in fila, tutti in fila per chi vuole morire. Tutti in fila, tutti in fila. Ah, il tank no. Dove è il tank? Ah, so. Eccolo. Dove? Oh, tank. Dove muori! Ah, è morto. Vai. Allora, un minuto e venti, ma? Oh, che vuole. Un minuto l'abbiamo fatto. Comunque, forse mi sembra facile questa mappa, perché è bella larga. Ora puntiamo a due. Ah, lag! Vediamo se riusciamo a fare il record del canale. Che però è che ho quattro minuti, vero? Sette minuti, per qualche minuto. No, 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 è vero. L'unico video di The 4 Dead che è arrivato a mille visualizzazioni. La cosa bella di questa mappa, è che non arrivano da dito, non arrivano. Andiamo tutti davanti. Per quello che ho detto, sta mappa mi sembra abbastanza facilotto. C'è un altro tank? Eh, sì, tank. Non c'è un tank. Non senti la musica. A me di scarima. Scusa, signor charge? Io c'ho più cose di nolle fordete che di nolle fordete. Giochi, 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 giochi. Che cazzo è andrea? Andrea? No, si era bugato a me. Hai capito che laghi? Andrea? Ma non è stato qualche po' Ah, il telefono mi vibra. Ah, il tank mi vibra. Cazzo. Cazzo la vita, cazzo la vita. Cazzo, cazzo. Vedi, questo succede a guardare Giuseppe Simone. Cazzo, cazzo, cazzo. Che c'entra Giuseppe Simone? Che provarino soltanto ora, Giorgio. Aspetta. Un tank mi sta mangiando. Ah, che situazione in merda. Un mortale, mortale qua mi sta leccando. Ok. Ragazzi. E che cazzo ne vuoi da me? Oddio, Giuseppe Grigio, sto. Sono metà rosso. André Giuseppe Verissimo, per dire. Arrivano. Lasciatemi di a terra, non più. Ci rallenta. Vabbè, dai. In fondo, in fondo serve. Per attirare altri zombie. Ah, il tank, il Joker. Il Joe Tank. Oddio. Perché sei sull'albero? Ah, il tank sull'albero, da scimmia. Scusa, eh, dall'albero. Come cazzo ha fatto a prendere un masso su? No, ma voglio lo scendere. No, ma voglio lo scendere, voglio io. Gru? Facci del tank. Cazzo, sono senza munizione. Cazzo, cazzo. Ah, che sto facendo? Ma fa un culo, vado sul pesante. Ok, vai. Morti il tank. Buono. Oh, fai, non puoi. Quattro minuti. Dai, quattro minuti. Stiamo fortissimi, sì. Sì, stiamo fortissimi. Ma magari, oh, non mi spavate, cazzo. C'è un lecca-lecca, là. Che cos'è il lecca-lecca? Smoker, credo in tenda. Ah, no, c'è il boom. Il boom, è un boom. Ah! Cazzo. Io mi devo curare. Idem. Una gamba, una gamba. Io mi devo curare. Charger, charger, charger. E' mi, charger, e' mi, charger, e' mi, charger. Cazzo. Cazzo. Ah! Ah, Rambo! Un lama, un lama. Tuffo. Rambo morì. Salve di Rambo! Jockey, lascia, moito. Vai, vai, Jockey. Cioè, vai, Tank, vai, Tank. Bravo, Tank, bravo. L'ho ucciso. C'è un'altra. Ehi, 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 ehi. Andando di questo passo faremo loro, ragazzi. Oh, oh, oh. Che, che? Chi? Emilio si chiama. Mogar. Ah. Minchia. Devo curarmi. Scusa, ma i medici se non ci sono? Si, stanno. Stanno, stanno. Eccoli. C'è uno, è rimasto, lo prendo io, ragazzi. Prenditi. Ma ecco, la ti sono altri. Curati, curati, curati. Curati, 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 bu. A me intendevo infatti, non è. Mi intendevo a me, va bene? Ciao, eh, Tank. Quello è un Tank, me lo chiami. Charger. Quello è un Charger, me lo chiami. Eh, un'altra cosa. Ah, lo dici. Ah, telefono, basta. Per Giuseppe Simone. Due Tank. Ok, Giuseppe Simone. Un Tank è scimmia. Sta facendo una scimmia. Ok, un Tank è morto, l'ho ucciso un Tank. Buono, buono. E l'altro Tank è cattivo. Emi, vuoi venire Emi? Emi? Emi, vai tu da Andrea. Emi, io non ho più visioni. Ok, dai, 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 che ce la stiamo facendo, ragazzi. Io cambio arma un attimino. Io prendo una bomba nucleare. Io devo prendermi il... Qua è pieno di medici, tu volendo. Eh, arrivo. Eh, appunto, misericordia. Cristo! Qua sono pure dei fibrillatori. Cazzo, cazzo, io... Grazie. Ho fatto quel che potevo da qui. Cazzo, come mi lascia. Ah, muttana. Aspetta. E l'argento è il nostro. Non riesco a mirare se mi sparano. Argento! Boomer pure, non basta. Ho bisogno di munizioni. Ho bisogno di vita. Un tank. Parasparo proteggendo. Dov'è il tank? Dov'è? Eh, dove? Devo cambiare arma. 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 Ok, è sceso. Aiuto, che c'è un gioco che mi sta inseguendo. No, 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 un charge, no. Un charge sta picchiando ma. Uh, che culo. Grazie. Non ti preoccupare, ti sto vicino. Eh, devo cambiare arma. Mi sto facendo più male io col friendly fighter. Fa niente. Fammi... Eh, qui qualcuno mi vuoi dare col tank. Sì, sì, ok, ok, ok. Ok, c'ho l'arma. Stai arrivando. Fermo. Che cazzo il charger. Ma comunque abbiamo fatto il record del scenario. Eh, dai, oh, vena. Ma dai, uno zombie mi ha messo a terra, uno. Telefono, telefono. Zitto. Velocco. Fa che non ci sia nessuno più vicino. Ha fatto una cosa buona, ha fatto una cosa buona. Ok, cazzo, io sto a vita, a vita rossa sto. Eh, anch'io. Cioè io... Adesso dammi, dammi una... Non c'è più niente per curare, no. Eh, mo' ho preso le pillole io. Eh, che cazzo, volevi avvisarmi leggermente prima. Ok. Mi sa che voi due siete leggermente fottuti. Ragazzi, forza. Io campero qua. Vedemi quella knowledge. Qualcuno mi aiuti. Eh, idem. Aspetta. Eh, purtroppo ci sono dei tribillatori, anche se non credo che li saremo mai, però. Che brucia situazione. Che triste la situazione. Io sono morto, ragazzi. No. T'ho defibrillato l'io. Mi ha spaccato una roccia in testa. Fatality. Che situazione di merda. Ma Alessandro... Sì, vabbè, qualcos'altro, erano 6 miliardi di giochi. 9 minuti, 9 minuti. 9. Abbiamo, abbiamo niente, abbiamo niente. Mamma, mamma. No, dai, per... Per 55 secondi. No, dai, ci... Dai, come... Ci dobbiamo riuscire, ragazzi. Dai. Ci appostiamo fare.